benvenuti o ben ritrovati su questi canali benvenuti soprattutto su dj peck intervista lo spazio dove ospitiamo giovani artisti più o meno conosciuti l'artista di oggi è un felice ritorno perché è già stata nostra ospite sin da quando qualche tempo fa ha presentato il suo primo brano freeze my fears dal momento di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e lei ancora qua a presentarci ancora un altro lavoro ciao 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 a tutti ricordiamo che la finale sarebbe rovesciata non si può scrivere quindi ci accontentiamo di quello che viene ovviamente come stai come stai io sto molto bene tutto bene e tu come stai ma dai diciamo che potrebbe andar meglio ma anche peggio quindi si prende quello che viene si ci si accontenta in qualche maniera soprattutto cerchiamo di viverla meglio possibile l'undici di giugno correggimi se sbaglio la data ma mi sembra che è stato l'undici di giugno è uscito il tuo nuovo lavoro dal titolo un po particolare m2 m2 sì ci vuoi spiegare cos'è m2 certo allora m2 appunto è l'ultimo pezzo uscito mio e è nato appunto in metropolitana che per chi non è di milano magari non sa tutti i codici delle varie metropolitane l'em2 è la metro verde di milano ed è la metro che io prendo quasi tutte le mattine per andare a milano in accademia perché studio a milano e è dove è nata la canzone e quindi non potevo chiamarla m2 ma se non ho capito male perché io tra l'altro la seguo su instagram se non lo fate seguitela perché riempie sempre di tanti contenuti simpatici tra i quali anche ha lanciato anche un contest tra virgolette per scoprire il titolo della canzone da qualche indizio spiega quello che è successo diciamo che questa canzone è proprio la metropolitana o mi sbaglio è la metropolitana in tutto e per tutto perché si parla di metropolitana si parla di questa persona che ho incontrato in metro tra l'altro con un cappello verde che è il colore della metro e soprattutto tutta la realizzazione della canzone è stata fatta in metropolitana quindi dalla scrittura perché l'ho scritta lì a delle parti della produzione perché abbiamo campionato dei suoni della metro inseriti nella canzone alle foto che si vedono anche su instagram quindi quasi tutta tutta la canzone tutto l'insieme è stato fatto proprio in metro e quindi si vive proprio la l'aria della metropolitana ma secondo me sentendo la canzone vedendo i vari contenuti diventa l'M2 accessibile un po anche a tutti anche chi magari non conosce i suoi suoni i suoi colori tutto ciò che appunto spiega nella canzone devo dire che questa cosa del fatto che avete campionato anche rumori della metropolitana mi incuriosisce molto ed è molto molto bella bella mi piace come cosa io ho letto sul tuo profilo spotify una cosa che mi ha incuriosito molto nella descrizione è scritto vivo nei miei trip e poi ricanto se vuoi entrare nella mia testa ascoltami avrai trovato la chiave esatto esatto allora ti spiego brevemente io tutto il mio processo di scrittura consiste in un trip iniziale cioè io vedo qualsiasi cosa che mi possa essere d'ispirazione mi parte un viaggione mentale gigante e da lì nasce la canzone quindi magari scrivo il testo una melodia che mi viene in mente ed è proprio un trip io mi entro in questo mondo e non ci esco finché non finisco la canzone e quando finisco mi rendo conto di quello che è appena successo e nasce la canzone quindi quando dico se vuoi vivere i miei trip ascolta la mia musica perché la mia musica è il mio trip quindi possiamo dire che il filo conduttore che ti ha portato a scrivere questi ormai quattro cinque brani quanti sono è un po la tua tra virgolette e follia sì sì sicuramente sicuramente detto in senso buono ovviamente ci sto prendendo per pazza anzi questo è il tuo quinto brano vero dopo freeze my fears sono arrivati rem uroboro lego e m2 esatto esatto mamma mia ho studiato stasera come sono preparatissimo tra l'altro guarda devo dirti che rispetto a freeze my fears hai preso ulteriori punti nella mia classifica personale perché hai scritto tanti testi in italiano e io l'italiano lo adoro perché abbiamo la lingua più bella del mondo è stupendo l'italiano e lasciami dire che valorizzano anche molto la tua voce sono contenta sono contenta sì allora scrivere in italiano è più difficile quindi io scrivevo in inglese per una questione di semplicità di spontaneo era molto più spontaneo per me e appunto anche a livello melodico è molto più facile scrive in italiano ha i suoi pro e se contro però quando scrivi in italiano secondo me esce proprio tutto molto più naturale più più trasparente vabbè dai ci sta ci sta la grande ma tutte queste canzoni poi hai intenzione di raccogliere in un album oppure allora in realtà manca una canzone per 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 chiudere questo cerchio e non penso di chiuderlo in un album ma verrà comunque racchiuso in un'idea con un filo conduttore quindi sarà concettualmente un filone unico e poi da lì cambierò e cambierò estetica cambierò tantissime cose e quindi credo sarà molto visibile un pacchetto comunque racchiuso e completo di queste cinque pezzi quindi verranno chiusi ma non chiusi in un album anche se poi al giorno d'oggi parlare di album fisici cd è sempre più difficile tanto la musica ultimamente si trova molto in rete molto online poco sul cd fisico però l'importante è trovarla esatto e vederne giustamente dal vivo allora in realtà proprio in questi giorni mi sto organizzando per creare la mia formazione live definitiva con la quale appunto inizierò a portare live il progetto oba che non è ancora mai stato live quindi ci stiamo lavorando e penso a breve inizieremo a fare i primi live bene ottimo questo mi fa enormemente piacere anzi sarò curioso di anche venire a sentire dal vivo magari magari quindi un po di social per poter sapere quando andrei live oltre instagram che ho già detto sicuramente instagram appunto ora mi sto approcciando a tiktok anche se è un social molto faticoso perché richiede molto impegno però mi sto entrando anche su tiktok sempre con come ovviova facebook lo seguo tramite instagram quindi sono anche su facebook e vabbè ho il mio canale youtube in cui metto più che altro i miei video clip i miei video l'airix un po di contenuti tra l'altro se non ho visto mai in questi giorni a breve dovrebbe uscire il video l'airix di m2 domenica sì sì quindi ecco l'intervista sappi che andrà in onda radiofonicamente parlando proprio domenica sera il video probabilmente il giorno prima sul mio canale youtube su facebook insomma un po di cose però dai siamo arrivati giusto in tempo per il video grazie il signore che è con te su m2 e nelle foto è mio nonno ecco perché notavo una certa somiglianza stanno chiedendo tutti sta facendo successo incredibile mio nonno per quella foto e semplicemente sta a rappresentare quella persona che mi ha fatto partire il trip in m2 e che era appunto una persona piuttosto anziana con questo cappello verde molto molto particolare con molto fascino e quindi non ho potuto che prendere mio nonno come modello complimenti per la scelta perché veramente non mi stupisce il fatto che abbia successo quindi molto molto bene progetti futuri di oba allora sto continuando a scrivere tantissimo penso che appunto adesso pubblicherò quest'ultimo pezzo di questo filone e poi partirò con un capitolo nuovo voglio continuare a devolvermi e a crescere a cambiare sperimentare tantissimo appunto adesso inizierò con i live e quindi spero di portare la mia musica tanto live e e basta e questo è mi sembra un progettino abbastanza buono vuoi diventare un artista seria vera si farlo a tempo pieno ci stiamo lavorando io ti faccio un in bocca al lupo enorme perché credo che te lo meriti e soprattutto se non altro per l'impegno che ci stai mettendo perché ripeto io ti seguo nei vari social da quando t'ho conosciuto con frizz my fears e devo dire che ti stai dando effettivamente molto da fare spero per te che i risultati già stanno venendo fuori e non che non vengono fuori però che siano sempre migliori grazie mille davvero apprezzo un sacco allora a questo punto dovrebbe essere potrebbe essere il momento di ascoltarsi m2 però io qua su youtube non posso farlo ascoltare perché altrimenti rompono le scatole con i diritti d'autore e va bene però sappi che il radio dopo questa chiacchierata la trasmetterò quindi vi posso un pochettino fare un po più quello che voglio diciamo così per gli amici di youtube vi lascerò qua sotto nel box informazioni il link al canale youtube di oba in modo da che possiate già vedere il nuovo video che sarà un video live xdm2 e magari seguirla anche nelle prossime uscite che spero siano presto grazie mille poi magari sotto il video anche tu se vuoi lasciare un commento con i tuoi social con i vari link di farlo anzi mi faresti un favore è stato un enorme piacere ritrovarti spero di trovare ancora più avanti per ulteriori progetti magari quando partirà questo nuovo progetto niente se hai qualche ringraziamento da fare questo è il momento giusto allora sicuramente ringrazio tutte le persone con cui collaboro per la produzione dei miei pezzi quindi ringrazio enrico bondi che mi produce in che ha prodotto m2 ringrazio rkh di torino che mi sta supportando per il mix e il mastering delle canzoni ringrazio matteo che mi che il ragazzo che mi farà il video lyrics che troverete comunque come comparsa nei titoli di coda del video e basta queste sono le persone che ringrazio maggiormente ringrazio tutte le persone che mi aiutano e mi supportano tutti i giorni nel nel mio progetto che mi sono vicine molto bene io ti ringrazio per essere stata qua con noi vi invito a seguirla sui suoi social e magari se quest'estate riuscirà a portare la sua musica live magari anche qualche live anche perché ragazzi la musica dal vivo è la roba più bella che possa rimane la cosa più bella sì sì decisamente sì e finalmente quest'anno sembra che possiamo ripartire però ripartiamo piano piano però si torna live un passettino dopo l'altro è stato un piacere ci sentiamo presto ci sentiamo grazie grazie a tutti